Le politiche ambientali sono politiche fondamentali e noi dobbiamo riuscire a fare politiche efficaci. Sappiamo che l'Italia ha 29 procedure di infrazione sull'ambiente. Quello che l'Italia dei valori vuole fare è affrontare il tema dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del consumo di suolo in una maniera che riesca a risolvere i problemi. Per fare questo bisogna coinvolgere i cittadini, bisogna ascoltare i problemi reali dei territori. Anche per questo la Costituzione nel laboratorio ambiente ha richiesto un po' più tempo rispetto al previsto ma l'intento è quello di riuscire a lavorare insieme in modo efficace per finalmente anche in Italia fare politiche ambientali e di sostenibilità reali.